Salve a tutti amici, bentornati sul canale, bentornati in Svizzera e ho fatto caso che non vi ho più mostrato il mio appartamento da quando sono entrato l'ho finito da arredare, nel senso ho messo dentro le cose che ritengo fondamentali poi tutto il resto ragazzi o non ha importanza quindi non lo metterò mai oppure piano piano quando trovo qualcosa che mi interessa per esempio lo appendo al muro allora iniziamo con questo room tour allora questa è la porta d'ingresso per ricordarmi di prendere il pranzo sempre questo foglietto e funziona appena si entra c'è un armadio dove metto la giacca, lo zaino, le cianfrusaglie e si è subito in sala una sala veramente molto luminosa considerate adesso di fuori sta piovendo ok sì, del lampadario sticavoli ho Alexa e ho messo le lampadine per poterle gestire anche con la voce televisore divano che ok sì, forse questo è il peggio pezzo che ho preso potessi tornare indietro già lo cambierei e metterei un divano letto è un divano che è costato molto poco ma poco vale quindi sì, forse è l'unico acquisto sbagliato che ho fatto e magari lo cambio davvero l'ultimo acquisto è stata questa scarpiera che uso anche come svuota tasche mobiletto della televisione che ho dovuto già riparare perché sarà scollata una gamba a breve riciaspoliamo c'è il cuore dell'appartamento questa è la scrivania che ho portato dall'Italia alla quale sono molto affezionato anche perché è stato un regalo e sì, questo è anche il posto di lavoro del mio montatore dei video al momento non è a casa, non sta lavorando quel pigrone e da una parte meglio così perché avete visto è un po' scorbutico c'è sempre Alexa che mi tiene compagnia e il maestro Yoda ok, c'è questo tavolo che lo uso come prolunga della scrivania per fare i video perché non ci ho mangiato mai a parte quando ho fatto quei video che vi ricordate del raclette o della fondue ok, allora sto utilizzando la Sony quindi ragazzi non è stabilizzata in cucina entriamo e abbiamo questi tre secchi che sono il cartone, le lattine e il vetro manca il pet, ma il pet lo faccio talmente poco che quando ce l'ho lo vado subito a buttare nei supermercati non è un problema, la cucina che è la parte che viene consegnata insieme all'appartamento perché in genere negli appartamenti la cucina c'è sempre ho avuto la fortuna che questo appartamento è stato completamente ristrutturato e hanno messo anche questa cucina nuova con i mobili nuovi e tutto quanto quindi è veramente veramente bella e comoda ha il piano in, io penso che sia granito peccato per il colore che lascia un pochino all'impronte, molto lucido sto facendo la pizza per stasera se mi seguite su Instagram avete visto anche la ricetta quattro piani non a induzione sono ceramica e il forno comunque dai è una cucina veramente 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 bella c'è anche la lavastoviglie però io vivo da solo quindi più o tre volte lo lavo a mano perché non voglio aspettare che si riempie e niente, l'unica parte brutta di questo appartamento in effetti è il bagno perché è l'unica stanza che non è stata cambiata, che non è stata sistemata è stato cambiato il lavabo, è stato cambiato il gabinetto ma per il resto è vecchio e anche alcuni difetti però per il momento va bene dai va bene com'è non mi soffermo troppo qui voglio mostrare anche qui ragazzi io ho il pallino o Alexa per quando faccio la doccia ascolto la musica e si va in camera da letto la luce che un pochino si vede che sfarfalla c'è un po' di sfarfallio questa è diciamo la camera che è costata più di tutte il letto è veramente grande è un 2 metri per 2 metri 10 l'armadio l'armadio non è costato tantissimo vabbè però è carino diciamo che è vuoto comunque io non ho tutti questi vestiti ma è veramente comodo perché ci puoi mettere un po' di tutto dentro in più ho quell'armadio all'ingresso quindi posti per mettere la roba c'è anche il letto ha questi cassettoni dove ci metto diciamo le cianfrusaglie e niente questo è l'appartamento ho anche un balcone che ragazzi adesso trovo fuori in un civato e diciamo che per me da solo questo appartamento è anche troppo grande e ne è passato di tempo quando ancora ero seduto per terra lì in quell'angolo e ero felice perché avevo ottenuto l'appartamento come sapete si viene scelti tra i vari candidati che sono interessati all'appartamento chi è più adatto viene selezionato è una cosa un pochino brutta è per questo che per prendere un appartamento qui in svizzera bisogna un pochino faticare bisogna vederne veramente tanti per me è andata bene l'ho tenuta anche abbastanza velocemente grazie e per fortuna del lavoro all'ospedale e niente cos'è che mi piace mi piace che grande anche troppo grande come ho detto è tutto nuovo è tutto in ordine anche per il fatto della lavastrice che è di sotto in condiviso col condominio non è poi un così grande problema ho un giorno a settimana che posso scegliere per lavare i miei vestiti e funziona abbastanza bene io spendo per questi 55 metri 1240 franchi che non è tanto per la posizione dove è per la grandezza dell'appartamento di brutto a che è un po' rumoroso perché essendo proprio al centro essendo proprio all'interno della città e ho una strada qui vicino è un po' rumoroso di notte a volte chiudo la finestra per non sentire le macchine cosa vabbè d'inverno non c'è questo problema d'estate un pochino di più per questi 55 metri quadrati pago 1240 franchi al mese ma mi pare 120 o 150 sono spese accessori quindi tutto quello che viene in più la pulizia delle scale, l'acqua, la corrente e tutto quanto e poi alla fine dell'anno vengono fatti i conti in caso o devi pagare un qualcosa in più oppure ti restituiscono addirittura i soldi sicuramente per risparmiare sarebbe stato più logico prendere un monologale o come lo chiamano qui studio sì perché sono degli studi, sono concepiti per lavorarci ma invece i stranieri ci vanno a vivere però in proporzione costa più di dai 700 ai 900 franchi non so quanto sarebbe convenuto e anche le metrature sono veramente basse nel senso sono 22-28 metri non ci avrei messo assolutamente tutto quanto avrei dovuto dormire su un divano letto insomma se dovevo stare qui un paio d'anni ok va benissimo non avrei avuto nessun problema ma per viverci e avere una qualità della vita decente insomma via bisogna anche dire che un 2 stanze e mezzo come questo costa tanto in proporzione per esempio un 4 stanze e mezzo un 5 stanze costa di meno in proporzione però sicuramente dai una persona che vive da solo non avrebbe proprio senso ma magari una famiglia, due persone che lavorano non sarebbe nessun problema spendere quei 2000 franchi al mese d'affitto e per chi cerca un appartamento in affitto qui in Svizzera posso dare un consiglio generico di guardare sul sito comparis.ch lo trovate se andate su google lì potete trovare appartamenti fare i paragoni per esempio tra le assicurazioni sanitarie assicurazione auto, moto quello che vi pare insomma dateci un'occhiata è un sito molto molto gettonato qua in Svizzera per il momento non ho intenzione neanche di attaccare niente alle pareti potrei ovviamente stampare una delle mie foto e metterle che ne so su tela o altro per poterla appendere carino sarebbe per esempio attaccare le compostela dei cammini di Santiago però vabbè mi lascio del tempo sono entrato da non tanto, da febbraio qui dentro e va bene ragazzi questo è stato il mio room tour se avete dei consigli, se avete delle domande da farmi scrivetelo sotto nei commenti se volete seguirmi e vedere quotidianamente quello che faccio e le mie disavventure seguitemi su Instagram, il link è nella descrizione del video e niente, ci vediamo al prossimo video voletevi bene, a presto e ciao